Ciao, questo è un video su alcuni prodotti bocciati del periodo perché sono prodotti che utilizzo da diverso tempo ma con i quali purtroppo non riesco proprio a trovarmi e parto da un prodotto del quale già vi ho parlato ed è lo scrub viso, questo qui, della Nuance Biosystem questo esfolia e rinnova questo scrub è esageratamente forte io non ho una pelle delicata del viso a me piacciono gli scrub quelli veramente belli, consistenti perché mi piace proprio la sensazione di quando vanno a pulire a fondo la pelle questo mi scartavetra il viso è troppo, troppo aggressivo ogni volta che l'ho utilizzato avevo il viso tutto rosso proprio irritato, arrossato poi mi era stato consigliato da Agataghi176 mi ha detto provo ad utilizzarlo per i piedi io ci ho provato ma anche sui piedi è lo stesso identico risultato i piedi mi si arrossano e posso assicurare che la mia pelle non è per niente delicata sui piedi assolutamente ma anche lì mi si arrossa completamente la zona l'unico modo adesso che ho trovato per utilizzarlo è utilizzarlo per le gambe e quando sono sotto la doccia e poi andare a mettere la crema lenitiva quella per il cambio del pannolino dei bambini perché con quella crema lì la pelle si va a riequilibrare più velocemente però anche le gambe comunque mi si arrossano ora sono 150 ml quindi non credo che è una cosa che finirò a breve perché comunque non riesco a farlo spesso perché la sensazione non è realmente bella cioè sembra veramente che mi va a portare via la pelle è troppo troppo aggressivo poi un altro prodotto che sto provando ad utilizzare da diversi mesi ma non riesco proprio è il balsamo protettivo questo di giardino cosmetico capelli, nariditi o sfibrati ed è questo qui questo è con olio di semi di lino dell'Umbria e Altea questo balsamo non districa non ammorbidisce i capelli non fa assolutamente niente ho provato ad utilizzarlo diluito non diluito un terzo di balsamo due terzi di acqua ma il risultato è sempre lo stesso non mi districa per niente i capelli il petting non riesce proprio a passare in mezzo me li lascia proprio come se fossero paia è la prima volta che mi capita una cosa così esagerata perché solitamente quando non metto il balsamo si, degli shampoo bio mi lasciano comunque i capelli tipo saggina però passando poi il balsamo il tutto si risolve questo balsamo non fa assolutamente niente non me li districa e sembra quasi che vada ad ingrassare il capello io ho provato ad utilizzarlo in tutti i modi ho provato ad utilizzarlo dopo lo shampoo della Sante ma assolutamente non va bene dopo lo shampoo della Saponaria che comunque io lo trovo molto idratante e a volte mi è capitato di utilizzarlo anche senza balsamo perché non ne sentivo proprio la necessità e utilizzando dopo questo i capelli erano veramente ingestibili perché non si pettinavano in nessun modo ho provato ad utilizzarlo dopo lo shampoo della Vichy quello antiforfora e anche con quello il risultato è stato pessimo ora penso che questo finirà per i pennelli perché non ho altra soluzione sinceramente non so proprio come utilizzarlo magari fatemi sapere se alcuni di voi l'hanno provato come si sono trovati perché io ho visto diversi pareri contrastanti su questo cioè a chi piace piace veramente tanto ma a chi non piace proprio non piace gli ultimi due prodotti sono due prodotti di makeup uno è la matita della Essence per le sopracciglia la numero 02 Brown questa matita io la sto usando però io alle sopracciglia non devo fare chissà che cosa perché devo semplicemente riempire i buchini che mi vado a fare io quando faccio le sopracciglia insomma quando vado a togliere i peletti sono un disastro faccio dei buchini e devo riempire semplicemente quelli perché io ne ho parecchie di sopracciglia quindi ci sono questa matita è talmente dura che mi va a portare via praticamente tutti i peletti che ci sono cioè anche qui proprio fa male quando la passo anche sulla mano sento veramente questo effetto ha la mina molto dura quindi mi va proprio a portare via i pelletti delle sopracciglia quando la utilizzo non so se è un problema solamente magari nella mia che potrebbe essere che negli stand Essence le cose vengono aperte e rimesse a posto quindi magari era stata tanto tempo senza tappo e si è un pochino seccata la mina ora non lo so però questa qui faccio una fatica tremenda ad utilizzarla perché mi porta proprio via i pelletti delle sopracciglia quindi ogni volta che le vado a riempire poi sulla punta della matita ritrovo tutti i pelletti delle sopracciglia e non mi pare il massimo questo pettinino che ha fuori sul tappino è veramente osceno perché se voi lo provate a passare così fa proprio male quindi non ci siamo per niente è vero costa 1,90 euro però secondo me non vale la pena l'ultimo prodotto che ormai sono due mesi che uso ma ancora non ho capito a cosa serve è questo mascara della Kiko il Volumize Plus Active Mascara questo qui questo qui dice mascara attivo effetto volume ha uno scovolino fatto così però non so se riuscite a notare ma essendo aperto solo da due mesi cioè preleva proprio ecco l'ho messa anche sul dito preleva proprio i grumi di mascara utilizzato da solo è veramente cioè non dà nessun effetto non mi dà volume non mi pettina le ciglia non mi fa assolutamente niente almeno sulle mie ciglia lì il modo che in cui lo sto utilizzando adesso è magari durante la giornata la mattina mi trucco metto il mascara la sera se devo uscire magari un'oretta e non mi sono struccata quindi non mi devo ritruccare vado a ritoccare leggermente il mascara e diciamo questo mi va semplicemente a pettinare le ciglia ma niente di che perché a me non dà né volume non le incurva non fa assolutamente niente anzi se non pulisco proprio bene lo scovolino tende ad incollarmi tutte le ciglia e ora ecco adesso che l'ho ritirato fuori non so se notate ma anche qui sulla punta ci sono tutti i grumi di mascara sinceramente non riesco a capire perché non ne ho sentito molto parlare di questo mascara e sono andata sul sito della Kiko per vedere se c'era scritto qualcosa insomma quali erano gli effetti principali di questo mascara e l'ho trovata addirittura tra i best seller della Kiko quindi non lo so forse sono io che non lo so utilizzare probabilmente non so gestire bene lo scovolino non lo so ma su di me non ha nessun tipo di effetto non serve a niente cioè metterlo o non metterlo su di me la differenza non c'è assolutamente fatemi sapere se voi lo avete provato questo era tutto e ci vediamo al prossimo video ciao